... Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Futuri Lord Ancestrale Oppure Lord Ancestrale se avete finito il gioco Ragazzi qui in questo nuovo video vi spiego come fare tutte le missioni di Selen E accumulare così tanti incantesimi da scaraventarli addosso a un boss Quindi inizieremo primo dal primo passo Raccogliendo così la cometa di Azur Per quelli che non sanno dove sta Azur Dirigetevi da questa parte Questo è il punto di partenza Attraverso il monte Gelmi in questo canyon E sempre più avanti Ho velocizzato il video Se volete mandarlo avanti Mandatelo avanti Quindi sempre da questa parte Perché lo troveremo Su una sedia Cioè seduto Là Senza fare niente Quindi parleremo con lui E lui in cambio poi ci darà la cometa di Azur Perché una volta data Andremo da Selen E gli mostreremo la sua magia Ok quindi poi lei comincerà a raccontarci la sua storia E tutt'altro Ok Quindi raccoglietela E dirigetevi da Selen Eccolo lì Bella addormentato Quindi una volta fatto Andremo da Selen Parleremo con lei Eccola qua Eh bella lunga la storiella qua Certo diamo inizio alle lezioni Eccolo qua Mostra la stregoneria di Azur Vedi? Cosa ti dice? Sì Raccontami la tua storia Ok Quindi noi dobbiamo aiutarla A conquistare l'accademia Va bene va bene Viaggiamo insieme Io la prima volta Cliccare Devo pensarci Questo mi piace È stato molto molto lento Da che ho trovato un figlio Kindred Lusat Ok Questo Lusat si trova nella terra di Kailir Selia Quindi adesso tra poco vi porterò lì Ci darà una chiave Eccola qua Ho un indizio sull'Usa Eccoci arrivati Ok Qui al forte Dove sta questo castello Dove sta questo trago bianco enorme Fatto di pietra Scendiamo qua sotto Perché c'è un passaggio Perché c'è un passaggio segreto Allora mi sembra che è da questa parte Qua il muro Ok Da un colpetto qua Entriamo dentro Ok Qua poi ho fatto un casino Non ricordavo la strada Ok Qua no Da questa parte Allora ragazzi In questa caverna ci sono tre cristalli I principi La con la lancia I dischi Quello che salta Dizi fatti di cristallo Se volete proseguire Proseguite Ma il nostro compito è scendere qua sotto Perché dobbiamo aiutare Lusat Esaminiamo Apriamo la porta Eccolo qua È bello grosso Ci darà così un incantesimo Ok Vabbè poi una volta dato Ritorneremo da Selen Parleremo con lei Concederemo un istante Un paura da chiederti Certo Vabbè ho capito dove È qui La quarta chiesa Di Marika Sì è questa Ok Proseguite da questa parte Sulla spiaggia Nelle rovine Perché come ha detto lei È solamente una proiezione Quella Nella caverna Il suo vero corpo Sta qua sotto Eccola Però Scheggia da imboscato Grazie per venire Ok La tocchiamo Dobbiamo tirarci fuori Una pietra Dalla pancia Ok Allora Adesso come funziona Abbiamo questa chiave Questa pietra Ora andiamo All'accademia No all'accademia Dove sta Aranni Ok Proprio qui Alle rovine Qui dove è sconvincito Il fantasma di Loretta Qui Proprio qui Ho trovato Una Generale di guerra Ed eccoci arrivati Colpite qua sotto Date un piccolo colpo Ed eccoci arrivati Qui c'è un altro passaggio Segreto Non è la luce Ci ho messo un bel po' A capire Questo è fondoccio Non ha importanza Questo Diamo un piccolo colpo Al muro Allora Cosa mi è successo qua Si è buggato Non so che Cosa è successo Quindi sono ritornato Di nuovo Da un punto di grazia E mi ha dato Così trasferisci La scintipietra Nel suo corpo Ok Ok Finalmente posso tornare all'accademia e mi sono schierato con lei per uccidere Jeren quello seduto sulla sedia quindi non vi preoccupate se non lo trovate seduto là allora andate direttamente all'accademia adesso vi faccio vedere al castello di Manto Rosso allora se ci avete già parlato in passato allora non fa niente se invece c'è ancora là fate così parlate con lui, ritornate qui ci sarà lui qui al vostro fianco che vi parlerà e poi andate all'accademia qui eccolo questo, proprio questo, ok? a me non c'era, quindi cosa ho fatto? se ho tornato all'accademia dove sta la tizia qua che ho appena sconfitto che mi darà, non so, mi resetta tutto non ho capito come funziona e qua fuori possiamo schierarci con Selen oppure con l'altro Jeren con Selen, esatto tentare a venire in aiuto della strega anche se la From Software non ha dato nessuna indicazione informazioni, niente così, così funziona eccolo là oh oh ma dove ci sa fare? allora, una volta ucciso ritorneremo nel nostro mondo parleremo con la strega Selen ci darà un paio di cosucce tipo incantesime qualche spada qualche pugnale poi una volta ucciso questo ci darà la sua roba tutta la sua armatura ah, mio apprendizio mio apprendizio tu hai visto questo? con il corpo di Master così che noi mio apprendizio aiutate e che tu abbia la sua propria chiamata ma il mio apprendizio è fatto che io già sono Lord Ancestrale e l'epoca del tuo crown tu sarai sempre la mia donna resta assurda che io no l'academia la crisi di scintipietra che ne pensate vi potrebbe servire per favore illuminati mi lasciare i segreti di vita che causano l'Elden Ring la prossima io sarò il tuo studente oh una ultima cosa se hai scelto di accettare il tuo trono puoi sempre pagare una visita oh, non ti preoccupi anche i miei più pubblici sempre studiato ho studiato tutto tutte le stregonerie ok scheggia come poi riguardo allo set e ce l'ho trovato quindi ragazzi questo è il finale di Sailland quindi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo lungo video su questa lunga guida e quindi grazie a tutti per questa visione se siete stato utile lascia like iscriviti al canale attivando anche la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ok quindi grazie a tutti e ciao ciao